A poche ore dalla sfida contro la Virtus Bariciano siamo con l'esterno della Cesaproba, Edoardo Marimia. Che gara vi attende? Una gara molto difficile, ci attende. Nei prossimi giorni, dopo domani, giocheremo contro Bariciano. Una squadra molto forte che si trova ai nostri stessi punti e finora ha disputato un grande campionato. Ma noi in settimana ci siamo preparati molto bene alla partita e pensiamo di riuscircela a batterla con tutte le nostre forze. Anche loro metteranno tutto quello che hanno e vediamo chi avrà la meglio. Qual è il segreto del vostro gruppo? Il segreto del gruppo del Cesaproba è semplice, siamo tosti, siamo una squadra forte, arrogante, ignorante, che crede su ogni pallone e lotta per la maglia. Noi non giochiamo per prendere qualcosa a fine mese, noi giochiamo per la maglia, noi perché siamo attaccati alla maglia e vogliamo giocare per questa maglia. In bocca a me. Crepiche.